Alle sue spalle un campo di grano quasi pronto per la raccolta, qual è la fotografia che si scatta quest'anno proprio per questo settore, per il settore dei cereali? Il settore cereale è un settore che è tornato strategico, lo sentiamo dire tutti i giorni, è un settore molto importante e la strategicità di questo settore è determinata appunto anche dalla guerra attualmente in corso. La produzione nostra italiana ma anche della nostra regione, della nostra provincia non è sufficiente alla domanda di grano che c'è da parte degli acquirenti quindi è molto importante tornare a produrre. Per tornare a produrre però è necessario in prima battuta che il grano torni ad essere un prodotto remunerativo e in seconda battuta vengano fatte politiche. Un primo inizio sicuramente è quello di aver liberato dei terreni e rimesso in produzione questi terreni che però non è sufficiente, ci vogliono politiche integrate per sostenere il prezzo del prodotto che diversamente rischia di essere venduto sotto costo e di supporto agli agricoltori nei confronti di quelle problematiche che possono essere gli ungulati ad esempio nel centro Italia, molto molto importante. La guerra in Ucraina come incide diciamo in tutto questo? Come sta incidendo? La guerra in Ucraina incide negativamente in prima battuta per l'aumento dei costi dell'energia perché come sappiamo tutta la parte del settore energetico è aumentato moltissimo e anche l'agricoltura lavora molto con il gasolio, con il settore energetico. Quindi noi ci troviamo a affrontare dei costi per la produzione molto più alti rispetto a quelli dell'anno scorso ad esempio. C'è più domanda di grano italiano? Certamente c'è più domanda perché il mercato si è molto modificato, non c'è più esportazione da quei paesi, anche se in realtà in Italia non abbiamo problemi di approvvigionamento. Possono essere determinati problemi di approvvigionamento nel momento in cui ovviamente il mercato viene completamente sballato in virtù di questa guerra in corso.